Pietro ASMR Ciao a tutti! Come va? Spero tutto super, super, super bene! Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video! Oggi sono qui, come avete visto, con questa intro super, super fega per, beh, annunciarvi i tre anni del canale Pietro ASMR quindi per festeggiare questo altro importantissimo traguardo Ma ci pensate che ho aperto il canale? Benvenuti, ben tre anni fa, il 2, marzo 2020 è un qualcosa di, a dir poco, meraviglioso Quindi, ho detto, com'è che è iniziato tutto quanto? Beh, con il video, come ben sapete, del mio primo video ASMR più vari trigger e allora ho detto, come verrà fuori quel video se lo rifacessi uguale file per segno ora che DVD ASMR ne ho realizzati e tantissimi beh, penso che verrebbe, beh, sicuramente un po' più particolare non più con quell'aria di... l'inesperto di ragazzo alle prime armi aveva addirittura 16 anni mamma mia, ragazzi com'è volato il tempo sembra ieri davvero di aver iniziato invece sono passati ben tre anni e io devo ringraziare uno ad ognuno voi che mi avete supportato dal giorno zero e che mi avete permesso di arrivare sino a dove sono oggi ovvero qui nel mio studio tutto un po' rinnovato e a realizzare tanti video due settimane più una live a settimana e a contare più di 34.000 persone che mi seguono giornalmente questo mi riempie il cuore di gioia quindi grazie a tutti voi del supporto che mi avete dato dal giorno zero e cerchiamo di andare ancora più avanti spaccare ancora di più ragazzi perché io so che voi siete formidabili e son certo che raggiungeremo i traguardi che non ci aspetteremo mai 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 quindi ora che direbbe io direi di riprodurre da zero e file per segno vediamo un po' se ci riesco il mio primo video ASMR che pubblicai nel lontano 2 marzo 2000 e 20 vediamo un po' come verrà fuori io penso che dovrebbe venire una cosa carina io lo smetterò mai di ringraziare ancora ognuno di voi e buona visione della ricostruzione 3 anni di Pietro ASMR il festeggiamento a inizio ora ciao 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 come va come va? spero molto bene benvenuti in questo mio primo video ASMR mi è venuta l'idea di aprire un canale ASMR quindi ho comprato questo piccolo microfonino un treppiede per il telefono e mi sono messo a registrare conoscere conosco l'SMR da un po' la prima volta che l'ho scoperto era appena uscito da piscina e mi sono messo a vedere su YouTube questa ragazza Chiara ASMR e allora mi sono appassionato poi prima di aprire il canale mi sono consultato con un mio amico e ho detto io avrei questa idea che dici? se la cioè se apre un canale ASMR e lui ha detto sì secondo me ci sta dovrebbe andare poi anche molto seguito vai vai e allora eccomi qua scusate ma sono molto emozionato essendo il mio primo video ma mi abituerò poi più avanti se il canale crescerà vorrei comprare anche uno sfondo nero da mettere dietro per creare un'atmosfera e anche un microfono nuovo insomma per il momento ci accontentiamo allora è anche un'atmosfera accorrezzo Voglio portare molti video sul canale Quindi vedrete tante cose E ora direi di cominciare con un trigger che è questa scatola in ceramica Molto molto bella a mio parere il suono Per caso qualcuno di voi sa dirmi se è possibile collegare della cuffietta a questo microfonino Per cercare di sentirmi in cuffia Perché appunto ora non posso sentirmi ma mi piacerebbe Non so però se è possibile Sentite Allora 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 Vado a prendere un altro trigger Dalla scatola dei trigger Che sarà protagonista dei miei prossimi video Allora 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 Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. E' molto bello anche quando lo si apre, no? Eccolo. Sentite? Eccolo. 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 Ora passerò ad un altro trigger, che è il dardo, che è il nerve, poi vedrete come farò anche altri video, sempre magari a tema Questo non si sente troppo bene, però dovrebbe essere un trigger carino Non si sente troppo bene, non si sente troppo bene, non si sente troppo bene Non si sente troppo bene, non si sente troppo bene Ora vado con il prossimo trucco Questo secondo me è buonissimo Cioè è molto buono nel senso il suono Il controller Il suono dei tasti sentite Il suono dei tasti sentite Poi magari se il canale crescerà potrò comprare appunto della nuova attrezzatura Per il senso dei video molto molto buoni rispetto all'ora soltanto Per l'amore Per l'amore Ora ora, un altro tricocer La scatola e la vina Questo potrebbe essere un suono invasivo Però molto bello allo stesso tempo Andiamo a svitare Allora, un altro tricocer Allora, un altro tricocer Ora voglio concludere con le cuffiette Sentite anche questo tapping Poi voglio realizzare anche dei roleplay Dove interpreta appunto qualcuno Ora vediamo, insomma Ecco il suono dell'apertura Sentite anche il tapping sulla plastica Bello Ed ora concludo Sempre appunto con la scatolina Spero che questo video primo vi sia piaciuto E vi aspetto in un prossimo video Spero di farne molti altri E ora vi auguro una buonanotte Sognitoro, sognitoro Buonanotte, buonanotte, buonanotte Sognitoro, 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 sognitoro Ora vado a dormire anche io Buonanotte, al prossimo video Bene ragazzi, eccoci qua Il video è terminato Questo speciale per i tre anni Finisce qui Spero vi sia piaciuto E spero anche di essere riuscito Nell'intento di ricreare il mio primissimo video Ma ora alziamoci Perché io voglio ancora ringraziarvi Di vero cuore per tutto questo supporto Che mi avete dato in questi Lunghi ma brevi anni Che sono ora tre Proprio da dal 2 marzo Che è oggi In cui sto registrando il video Ma voi non lo vedrete esattamente il tuo Ma dettaglio un giorno dopo poco cambia E che dire Vi sarò per sempre grato Per avermi fatto arrivare Sì in qui dove sono oggi Perché sapete che Principalmente il merito è vostro Ed è in questo speciale di tre anni Che voglio annunciarvi Diciamo una nuova rubrica Vi chiedo infatti Di scrivermi delle lettere su carta Con la vostra calligrafia Parlando di cosa è per voi l'SMR Per cosa ne fate uso Insomma per studiare Per rilassarvi Per dormire Che cosa pensate del mio canale Del canale Pietro ASMR E insomma Parlare in linea generale dell'SMR E del canale Pietro ASMR E appunto Mi andrete poi a spedire queste lettere All'indirizzo che vi lascio sotto Nella descrizione Che non è quello dove abito Perché se no sarebbe troppo semplice Ristracciarmi Una persona così famosa come me Poi riceverebbe tanta gente alla porta Quindi Ecco cosa vi chiedo E poi ci andrò a fare ovviamente Un video dedicato Pure più video Apriendo la rubrica Una volta al mese ad esempio Ora vedrò come strutturare la cosa Però intanto Mi è venuta questa idea Quindi cominciate a spedermi lettere Ricordando il monte dell'SMR Perché credo possa venire fuori Una cosa molto 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 Carina Quindi vai Iniziate a scrivere Che Si è persa un po' Questa abitudine Dello scrivere Soprattutto in corsivo Quindi ovviamente scrivete Leggibile Non voglio correggere temi Però insomma Mi farebbe molto piacere Che scriveste qualcosa Per vedere cosa Ognuno di voi Pensa dell'SMR Quanto sia importante Effettivamente Perché qualcuno lo disprezza Ma Ha un lato Molto Molto positivo Intanto guardate Come mi sto esercitando Per fare i vlog Nel nuovo canale Che aprirò a breve Credo per aprile Quindi tantissime novità Passate questi tre anni Credo che questo sarà Un anno di fuoco Anche con i vlog del Giappone Tanta 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 roba In arrivo Tanta carne sul fuoco Ho aperto questa nuova rubrica Vi lascio Vi ricordo L'indirizzo In descrizione Mettetevi in gioco Nella scrittura E credo che possa essere Una cosa fighissima Come si faceva una volta In televisione Le lettere di bambini Ovviamente non sono Le lettere di bambini Insomma cose serie Serie Però dai ci sta E quindi ancora Grazie 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 Per questi tre anni Meravigliosi Spero Di avervi rilassato Nel ricreare Il mio primo video Di averlo ricreato Fidelmente Sicuramente Venuto più rilassante Del primo Perché ormai Sono troppo bravo Ed ora Non posso far altro Che augurarvi Una Tranquilla Giogliosa E serena Notte Notte Notte